Alex Martino, presidente del San Termete, si riparte finalmente due anni lunghissimi, c'è tanta voglia, tanto entusiasmo di tornare a calcare quel rettangolo verde? Sì, speriamo che si riparta o quantomeno che si riparta per poi non fermarsi perché l'anno scorso secondo me si è partiti un po' sottovalutando il problema evidente che c'era e non voglio fare discorsi noiosi o banali, però noi lavoriamo per ripartire, ma ripartire senza fermarsi. Calcio mercato, ci sono delle operazioni da fare, risolvere la questione portiere, puntellare un po' tutti i reparti, non tantissime operazioni, però il mercato è vivo a San Termete? Sì, il mercato è vivo, esatto, non tantissime operazioni perché ne abbiamo fatte parecchie l'anno scorso ed erano state, almeno per quelle cinque partite, tutte vinte, per chi se lo fosse dimenticato, tutte giuste. Dopo c'è anche che i fuori quota non sono cambiati perché la federazione giustamente ci ha fatto votare, la promozione è passata, il blocco dei fuori quota era fisso, ma che ce ne sarebbero stati solo due anziché tre, per cui non dobbiamo neanche rivoluzionare i fuori quota e quindi c'è solo da muovere qualche pedino per sostituire qualcuno che ha deciso di andare a via o che non è stato confermato. Riparte anche il settore giovanile, poi qualche attività era già stata portata avanti nel finale della scorsa stagione, quindi anche da quel punto di vista come presidente sei orgoglioso. Quali sono un po' i numeri del settore giovanile del San Termete? Allora, il settore giovanile in realtà non ha ancora terminato e terminerà il 25 con l'ultima partita che mi rende anche molto felice, San Termete e Rimini a San Termete. Non avendo attività con i grandi ci siamo concentrati e mi sono concentrato sull'attività del settore giovanile che fino a quando non si è potuto ha fatto gli allenamenti con tutte le restrizioni che andavano rispettate. Adesso che la federazione ha permesso dei campionati, piuttosto abbiamo prolungato la stagione, ma li abbiamo fatti perché ci siamo tutti riempiti la bocca sui bambini che devono giocare, poi ora che potevano giocare l'abbiamo fatto. In conclusione, sempre guardando nel prossimo campionato, un po' le rivali, le vicine squadre della Val Marecchia, Nova Feltri e Pietracuta, come le vedi? Io le vedo sempre bene, dopo noi abbiamo avuto buoni derby giocati con una e con l'altra discreti, però magari questo è l'anno che li perdiamo tutti. Non lo so, anche perché non si legge molto di mercato, per cui non lo so. Però il Nova Feltri ha preso Giorgi, un ottimo allenatore, il Pietracuta sarà quello dell'anno scorso con pochi ritocchi. Sì, anche a me lo sai che io non mi fanno paura gli altri. Per ultimo ovviamente il Verucchio, non l'abbiamo prima citato tra le squadre della Val Marecchia, una squadra per te è un derby, visto che lavori comunque e l'attività qui a Verucchio alta. No, io sono ospite a Verucchio, non è un derby. Sì, è bello che ci siano tutti questi derby perché almeno torna anche il lato focoso per il limite del possibile, che poi chissà se ci sarà il pubblico e sicuramente sarà divertente affrontarli. Maurizio Molari, dirigente del San Termete, si riparte finalmente, ne parlavamo anche con il mister, due anni lunghissimi, ora sembra finalmente che si possa tornare a calcare il rettangolo verde. Speriamo che sia la volta buona perché se salta anche quest'anno, dopo il terzo anno, è veramente dura, dopo ritrovare di nuovo gli entusiasmi per rifare tutte le squadre, i settori giovanili, perché è un impegno grosso, poi dopo rimani sempre così, che ti devi fermare, non è facile. Ripartite con entusiasmo, con la volontà di fare bene, è un campionato importante in questa promozione, della quale ancora ovviamente non si sa la composizione dei gironi, però c'è anche voglia di far ripartire il settore giovanile due anni senza il trofeo Protti, una bella perdita, non solo per San Termete ma per tutto il movimento calcistico riminese. Sì, sì, noi l'entusiasmo ci sta ritornando perché non dico che ci era andato via, ma ci eravamo avviliti perché la situazione era veramente difficile. Chiaramente noi vorremmo essere competitivi, come ha detto prima il mister e il direttore sportivo, la squadra va fatta una squadra che se la giocherà con tutti, questo è il nostro intendimento. Poi dopo sul settore giovanile già qualcosina abbiamo fatto, negli ultimi mesi qualcosina abbiamo fatto, si è mosso qualcosa, i ragazzi si sono divertiti perché comunque li abbiamo fatti giocare due o tre volte alla settimana, tra i tornei della federazione amichevoli li abbiamo fatti giocare. Il torneo Protti è veramente due anni d'assenza, per noi ha voluto dire molto anche a livello di entrate perché effettivamente questo torneo a noi ci dava una bella mano a completare e chiudere magari qualche buco. si spera di rifarlo quest'altro anno e noi sicuramente lo vogliamo fare e mantenere il livello alto perché non ha senso dopo due anni andare a ridimensionare perché se ridimensioni in questi tornei va a sparire. Intanto 130 iscritti, circa 130 iscritti al camp estivo, anche questa è una bella notizia. Sì sì, 130 iscritti e poi anche un buon organigramma perché ci sono dei buoni ragazzi, buoni allenatori con anche delle maestre d'asilo per i più piccolini, quindi cerchiamo di aver fatto le cose per bene, aver guardato a ogni particolare. Vedi la merenda alla mattina, vedi il pranzo a mezzogiorno, queste sono quelle qualcosa in più che fa piacere, comunque è tutto a norma perché si parla tutto a norma che richiede questi momenti qui, che non è facile.